Accoppiata vincente in Serie B, la Valentina si è spugnato con grande autorità al campo del mortare e le immagini si riferiscono proprio a questo match. Archiviato la pratica a salvezza, si è definitivamente lanciata verso la conquista di un posto playoff. La meridia è non curante di infortuni, mancavano verdiani e tempestini e di influenze, ha invece strapazzato il Valsesia con una gran difesa, conquistando due punti importanti nella lotta per non retrocedere. Tornando all'ultimo turno di campionato, il blitz dei gialloneri di coach Valerio, in Lombardia senza della Rosa, è stato firmato dalla straordinaria serata al tiro di Barsanti, 29 punti con 6 su 9 nel tiro da 3, e di Giannini, 25 con 4 su 5 dalla media. I 54 punti segnati da Bottegone in un secondo tempo frizzante hanno di fatto spianato la strada a Marconato e compagni, sempre più formazione e rivelazione del girone. Sul fronte monsumanese invece si è cercato di far di necessità virtù con ottimi risultati, ritmi bassi, gioco controllato e avversari, fino a quel momento secondi in classifica in grave crisi, incapaci di dar sfogo e di accendere i propri tiratori. Abbiamo cercato di giocare con i lunghi perché su quello contro questa squadra avevamo un piccolo vantaggio e devo dire che è stata eseguita bene questa cosa, abbiamo raccolto tanto. In difesa io sono particolarmente fissato su quello, i ragazzi mi vengano dietro, fanno un grande sforzo perché il lavoro è a volte anche noioso e lungo, però si riesce a evitare tanti canestri e tante situazioni facili per gli avversari con una preparazione diciamo certosina. Quindi molto bravi i ragazzi perché come si sa la difesa non è proprio la cosa che i giocatori speriamo non di più fare, però c'è veramente una grande applicazione.